Sì, però è difficile. Che dici, non ha spumato? Non ha spumato. Io so che è difficile, poi il motivo nel fondo non lo so, nel senso che conosco bene il suo disegno, è il più difficile che lui ha fatto. Adesso mancano le luci, eccetera. Cioè, è arrivato a questo punto? Quello difficile è arrivare qua. Diciamo avere un riferimento, perché poi molta prospettiva è data dalle ombre e dalle luci, quindi non si può disegnare. Se tu la ricalcassi, non ci assomiglia. Perché la metà del lavoro, la metà degli effetti d'ombra, quando le ombre sono molto delicate, se io adesso ci metto delle luci, una luce di pastello chiaro, se ci mette, vieni, allora non lo faccio vedere. Cambia già perché la forma viene data dalle ombre e dalle luci molto delicate. Quando c'è un pastello incisivo, invece, dove il disegno predomina, allora è più facile. Perché capisci, si vede fino alla linea curva della... Se tu, man mano che io metto le luci, ti ricorda dei disegni di Leonardo? Sì. Sì, sì. Cioè, perché dietro... Mi sembra Sant'Anna. Sì, no, c'è dietro, c'è l'influenza totale delle le due. Vedi, se questo è proprio peggio di così, mettiamoci la ricoltà del pastelli. Con il gesso, sì. Poi magari anche un buco nella carta. Vedi? Mamma mia. Assomiglia. Vedi? Che bello, no? Sì. Incomincio. Aspetta lì. Questo è... Uno lo interpreta come disegno, invece questo è ombra. Sempre leggero, vedi? Eccetera. Ma fa la piega di reghello. Eh sì. Eccetera. Ecco, perfetto. Perché l'epo superiore, diciamo, a termine del filtro, diciamo così, è inizialmente un po' prominente, un po' acuto. ehm Bello. Mamma mia, questi tratti così spontanei, eh? Qui c'è un'ombra portata, allora lui poi ha fatto un lavoro. Ma non è completamente chiuso quest'occhio? No, perché sarebbe così con due linee dentro più scure. Noi poveri mortali cosa dobbiamo fare? Noi poveri mortali. Noi poveri mortali. Noi poveri mortali. Noi poveri mortali.